ciao ragazzi ciao a tutti benvenuti bene benvenuti questa nuova puntata siamo qua oggi con max ciao ivan l'altro giorno io ho fatto un casino non ti preoccupare non è successo niente ciao stefano ciao mk dj ciao beats by cama ciao a tutti benvenuti allora la prima cosa da dire oggi è che c'è un bellissimo plugin che daremo via bellissimo il bellissimo plugin in regaro che è il compressor di capo multimedia che praticamente è il distress or fatto dai capo multimedia e uno lo daremo via qui in diretta e uno come al solito lo scegliamo c'è scegliamo uno tra gli iscritti a free videos che la è la è all'interno della è la sezione dei free video all'interno della nostra piattaforma mix punto it quindi vincolo se non siete ancora iscritti iscrivetevi prima anzi no secondo perché vi rischiate di vincere plugin e primo perché ci sono più di 40 video gratuiti plugin tutorial tecniche tips and tricks eccetera quindi è una risorsa figa e a gratis e quindi è in più rischiate di vincere plugin quindi se non siete ancora iscritti iscrivetevi la e direi che partiamo subito con le news sì prima dobbiamo dire che siena della siena in palio giusto giusto per gli iscritti a free videos l'ha vinto l'ha vinto l'ha vinto sono distorto così si potrà tenere le sue sennheiser no che siena hai le beats ah non mi ricordo più le bayardine ah vabbè quelle che c'ha comunque visto che ci ascolta con le cuffie almeno sente un po meglio e sente anche gli eq oltre che le compressioni allora stefano ragni ci scrive se può fare subito una ruffianata sì ho preso il corso drum rock mixing drum rock in offerta ti devo fare complimenti come spieghi tu le cose nessuno mai grazie grazie mille a lui cose già le sapevo ma altri trucchetti mi sono veramente piaciuti e serviti perfetto guarda noi siamo contenti perché se riusciamo aiutare qualcuno a migliorare le sue tecniche di mix siamo contenti e facciamo apposta il live mixing e i nostri corsi per questo per questo è il corso era in offerta non lo è più però non costa tantissimo se qualcuno vuole andare a dargli un'occhiata è mixing rock drums che è un estratto del più ampio drum recording e mixing che lì c'è proprio tutto c'è oltre a mix in rock drums che è come missare la batteria con 8 micro registrata con 8 microfoni e con due microfoni e con tre microfoni e in più c'è tutta la sezione su come registrare la batteria con 8 microfoni con tre microfoni o con due micro c'è tutta la sezione per come mettere in fase gli overhead come microfonare rullante come microfonare la cassa come aggiustare la stanza tutta una serie di cose quello se se volete affinare la vostra tecnica per registrare le batterie prendetevi il corso totale se è solo per mixare prendetevi mixing rock drums che c'è dentro tutto quello che serve se invece sapete già fare tutto non prendete niente state con noi perché comunque ci divertiamo lo stesso sì allora come dicevamo oggi c'è in palio il t-rax compressor quindi rimanete qui con noi perché a un certo punto della puntata faremo una domanda è il primo che risponderà come al solito vincerà una licenza del t-rax compressor di ik multimedia per chi non lo conoscesse abbiamo pubblicato proprio settimana scorsa un video tutorial gratuito su youtube dove lo spieghiamo nel dettaglio e lo facciamo sentire quindi se volete sapere come funziona il complexor e anche il distressor perché alla fine sono la stessa macchina andate su youtube trovate il video tutorial gratuito e se siete su youtube andate sul nostro canale vi iscrivete e poi lo trovate lì insomma mettete allora francesco ciao dice io che non so fare niente per te non penso che tu non sappia fare niente però se vuoi non è vero se vuoi un corso più approfondito che parte dalla a fino alla z devi aspettare ancora un po perché lo stiamo preparando ma ci sarà anche un corso interamente dedicato al mixing e quindi dall'inizio alla fine sembra che stiamo smarchetando con pazzi nessuno è obbligato ad andarsene a prendere però lo diciamo nel caso vi interessasse in realtà magari ti potrebbe essere utile il corso di cui non ricordo il nome adesso andy si incazza dove ci sono venti 23 tecniche cioè sono dei video singoli con 23 tecniche dedicate al basso alla batteria le chitarre alle voci al mix bass e come usare dei plug in iconici che che ci sono sul mercato e quel corso lì magari potrebbe essere una buona infarinatura generale magari dagli un'occhiata ecco come si chiama il corso max ti devo licenziare eh eh porca puttana non mi ricordo non ti posso licenziare cazzo se non ti licenziare bravo 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 ho incollato dai basta non abbiamo neanche messo la sigla della pubblicità abbiamo fatto la pubblicità senza la sigla no vabbè ma ce l'ha chiesto ce l'ha chiesto eh vabbè chi è interessato comunque adesso così e comunque abbiamo deciso che per chi ci segue in diretta c'è lo sconto questi pro mixing techniques e ehm drum recording e mixing sono scontati allora diciamo che chi è interessato di quelli che stanno vedendo questo video o su youtube o anche se siete interessati mandateci un dm che vediamo cosa se possiamo fare la stessa offerta che abbiamo fatto quando l'abbiamo lanciato bene giusto questo volevi dire sì esattamente adesso chiudiamo questa sezione di pubblicità e andiamo direttamente alle news cosa dici max alle news vai vado con la sigla vai con le news allora c'è ancora francesco che fa le domande sui corsi eh è l'ultima domanda a cui rispondiamo se no poi diciamo che ci dicono che facciamo le marchette no sembra se no sembra che esatto 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 allora guarda vai sul nostro sito recmx.it e lì vai nella sezione dei corsi drum recording e mixing e ehm pro mixing techniques che adesso li vedi a prezzo pieno se ci mandi un dm li scontiamo del 50 per cento sì ok fine delle marchette andiamo con le sì 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 allora la prima news se francesco vuole informazioni siamo qui apposta allora la prima news max io direi di parlare del plugin che non è ancora uscito lo diciamo proprio in anteprima tra un quarto d'ora esce un quarto d'ora un quarto d'ora ok esce fra un quarto d'ora lo sapete un quarto d'ora prima che esca in realtà probabilmente l'avete già visto in giro e non è che però ma non ne hanno parlato molto eh no non ne hanno parlato molto ne ha parlato solo uno che sappia io eccolo qua lo vedete è praticamente vediamo se c'è una foto più grande eccolo qua il plugin è stato creato in collaborazione con i famosi blackbird studio e e kit plugins che è un nuovo marchio e riproduce la l'equalizzatore ma non anche il preamplificatore di un di un canale della console presente nei blackbird studios che è un niv serie 80 vuoi dirci due parole su blackbirds ma i blackbird sono sono gli studi forse tra gli studi più iconici in america il proprietario che john mcbride mi sembra che il marito di martina mcbride è un pazzo scatenato nel senso che è uno molto appassionato ha delle possibilità economiche notevoli perché martina mcbride è una superstar mondiale quindi ha guadagnato un pacco di soldi e praticamente ha fatto questo studio fantastico che non solo è fantastico lo studio ma dentro c'è il mondo cioè ci sono non so quanti farci al tipo 24 for child pultec microfoni come se piovesse tutta roba vintage poi è un pazzo scatenato perché per esempio le batterie dei beatles erano registrate mettendo in alcuni pezzi mettendo degli asciugamani sui fusti lui si è fatto dire la marca degli asciugamani e si è comprato gli stessi identici asciugamani dello stesso identico tessuto questo mi sembra un pochino esagerato no è vero è verissimo per dire il limite al limite del fanatismo a c'è penso che abbia la collezione di microfoni e di outboard più pazzesca che ci sia in circolazione e ci lavora ci hanno lavorato un sacco di ingegneri pazzeschi un resident era jacquira king un altro resident era van spowell e ci hanno registrato anche in egramaro il disco prodotto da jacquira king non chiedersi il titolo perché non lo so però è a nashville ed è uno studio veramente scusa ma tu non sei fan di egramaro no dai sono forti negramaro secondo me sono forti però io non mi ricordo i titoli di niente non mi ricordo neanche i nomi delle persone quindi l'album non me lo ricordo è molto figo l'ha prodotto jacquira king e l'ha masterizzato versari quindi giovanni versari che è un grandissimo mastering ingegnere italiano ecco qua l'abbiamo collaborato anche su certe cose e niente quindi adesso hanno fatto alla cosa bella se vi dovesse interessare se ci avete il grano mi sa che fanno delle sessioni di di studio all'interno di dei blackbird che durano non so settimane non so due mesi tre mesi quattro settimane adesso non so di preciso però quella potrebbe essere una bellissima esperienza se qualcuno vuole vuole approfondire questo mestiere ha i soldi e si può permettere un'esperienza come quella sicuramente indimenticabile non sono distorto chiede se c'è anche un corso per come fare la una cotoletta alla milanese sì lo prepareremo anche quello sì 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 anche se io devo dire la verità è come cuoco faccio veramente cagare quindi non vi conviene comprarlo guarda fab du pont fa le ricette fai i tutorial sulle ricette su pure mix noi mi sa che tra me andy potreste morire di fame siamo bravi ad andare al ristorante ecco quello sì ma guarda mangiare non ci siamo no no va bene andiamo avanti con le novità sì 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 allora un'altra novità della settimana è il kelvin di tom projects che è un marchio non nuovo ma che ha ricominciato da poco a creare nuovi plugin questo è il suo secondo plugin della nuova serie diciamo che è dedicato al mastering è un saturatore dedicato al mastering e non solo ovviamente potete utilizzarlo anche sulle tracce e ha la sua caratteristica è che combina tra di loro due stage di distorsioni diverse che potete scegliere da questo menu quindi ci sono emulazioni di trasformatori valvole transistor eccetera entrate in uno stadio di distorsione e poi andate al secondo stadio dove avete le stesse identiche emulazioni quindi potete combinare tra di loro due emulazioni diverse o anche la stessa emulazione e in più avete una sezione di equalizzazione che però è sia pre che post distorsione quindi la frequenza avete tre bande dove la frequenza è unica per il pre e post ma potete scegliere la quantità di intervento tra l'altro potete anche mettere la banca potete cambiare il tipo di filtro e sugli estremi potete attivare l'ipass filter o il low pass filter più degli altri algoritmi che servono a ampliare un pochino il panorama stereofonico creando una diversità tra il canale sinistro e il canale destro e anche un algoritmo che va a pulire quelle frequenze che con la distorsione potrebbero diventare fastidiose e un clipper finale è un plugin molto interessante poi lo vedremo più nel dettaglio perché faremo un plugin un tutorial dedicato solo dedicato esattamente questa è la seconda novità la terza novità sono i nuovi plugin di arturia di cui ne vedremo uno tra poco cioè l'emulazione del del niv 33 609 che qui si chiama comp diod 609 è un'emulazione con delle cosine aggiunte che poi andremo a vedere dopo dopo oltre a questo nel nella nuova suite degli la nuova suite fx collection 2 sono stati aggiunti il bass force che è questo che vedete qui che ci permette di aggiungere delle compressioni equalizzazioni e saturazioni parallele tutto all'interno di un unico plugin quindi dedicato al mix bass o al mastering o anche da utilizzare sui singoli bass provate i preset che sono inseriti che sono abbastanza estremi e sono ideali forse più ad essere utilizzati sui bass ma per stravolgerli in realtà usato in maniera parsimoniosa può andare bene anche in fase di mastering il terzo invece è un equalizzatore derivato da un eq non mi ricordo se simens o neumann comunque un eq vintage che aveva già emulato sound toys giusto max se sq si e q mi pare se chiamolo eccolo qua non è la stessa identica macchina perché questo ha le basse e le alte fisse mentre le medie sono variabili invece questo nuovo di arturia in questo nuovo di arturia possiamo scegliere le frequenze basse le alte abbiamo un high pass filter un low pass filter e in più possiamo cambiare anche la campana delle medie quindi probabilmente quello lì di sound toys quello lì di sound toys le alte sono molto belle anche valentine lo usa spesso sì perché valentine alla macchina originale diciamo in alto sì perché valentine alla macchina originale e quando lavora quei plugin in the box usa l'emulazione delle macchine che ha ok queste sono le novità un'altra novità è il nuovo tape di lady soft tube che non abbiamo ancora provato perché qua non abbiamo più tempo di far niente comunque questo qui con 50 plugin al giorno non è che uno li può provare tutti è l'emulazione di un tape delay tipo space eco della roland o binson è un po non è marchiato quindi hanno fatto un po un mix di queste varie macchine per ricreare un plugin originale ha anche un riverbero al suo interno come ce l'ha lo space eco dedicato quindi ai suoni vintage molto interessante se avete sentito le demo se andate a sentirlo sentirete che molto molto particolare ed è sicuramente se non avete un plugin di questo genere da tenere d'occhio yes tra l'altro noi non è che non possiamo provare tutto perché nonostante facciamo una marea di contenuti corsi questo e quello in realtà il nostro mestiere è fare il mix e master cioè questa è una è un side quindi cioè si può facciamo una cosa o facciamo l'altra però diciamo che riusciamo a provare tanta roba ma non tutto l'ultima novità ma a breve lo proveremo l'ultima novità poi passiamo ai free plugin è il nuovo mrh 159 di nembrini audio a cavolo si è bellissimo il marshall di igor esatto è il marshall di nembrini audio possiamo dire dai del nostro amico igor nebbini anche colorato ci sono in molti plugin di nembrini ci sono i nostri preset eccetera eccetera ma questo questo marshall è veramente molto figo perché ha ricreato il marshall con le modifiche di di rosè a redondo che era quello che faceva le modifiche diciamo agli ampli di van allen da cui brown sound e quindi brown mi sembra che si chiami brown qualcosa no la questo ampli si brown sound ok e quindi qui igor ha ricreato alcune delle modifiche di osè a redondo faceva sulle teste marshall poi le teste marshall modificate da da osè le hanno usate un po tutti per esempio sul black album di metallica il suono di chitarra è fatto da una 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 mesa e una marshall modificata da osè stessa cosa su 87 dei wise neck il suono di di john sykes è fatto con una mesa e una marshall modificata osè a redondo quindi questo è un plugin io vi consiglio di non perdere veramente una figata ok scusate che stavo leggendo un po di domande sì ivan drums chiede rispetto a quelli di uadi in marshall allora questo è un marshall un pochino particolare proprio per questa modifica allora io quello di uadi non l'ho provato però presumo che sia una plexi pura diciamo questo qui è un è una plexi modificata quindi è un po più spinto un po meno vintage però presumo che faccia anche la parte vita io l'ho usato solo spinto quindi non non in questo di nembrini nuovo possiamo anche disattivare il varia così diventa da tutti gli effetti una plexi praticamente dovrebbe sì però non ho fatto con questo perché io quello di uadi non lo uso e quindi non non ho potuto fare il confronto sono cioè quello di uadi è bello questo è bello secondo me sono sarebbero da avere tutte e due perché fanno due cose un po diverse sì la particolare allora se avete un apollo apollo twin eccetera con i plugin di uadi praticamente potete suonare a latenza zero e questo è il vantaggio se e quindi se avete quell'interfaccia vi conviene puntare sui plugin di uadi se invece non le siete a quel punto combattete ad armi pari sì comunque la latenza zero penso che sia sempre 64 sempre quella di uadi adesso però non vorrei dire minchiate perché io non ho l'apollo quindi non non lo so mi sembra che sia così se una latenza near zero non è proprio zero però sarà meno se fai metal se fai metal devo dire forse quello di nembrini si avvicina un po di più a ai suoni un po cattivi però se poi metti dei pedali davanti così sono belli tutte e due sono distorto no il ton shaper non c'entra niente con il diamond transient designer di acustica audio poi lo vedremo faccio un plugin tutorial dedicato solo a quello quindi potrai vederlo e sentirlo nel dettaglio ok diciamo che con le news abbiamo finito per il momento perché poi ci saranno free plugin dove ci saranno andiamo subito col free plugin andiamo col free plugin sì sì passiamo direttamente adesso non mi ricordo più qual è la sigla proviamo quella con la tua rullata la risentiamo la rullata quanto ci piace dobbiamo campionare cioè campionata già campionato dobbiamo farci qualcosa allora ragazzi piace questa sigla siccome abbiamo saltato la settimana scorsa abbiamo fatto la puntata con giancarlo quindi non abbiamo fatto le nostre amatissime rubriche e quindi abbiamo saltato oggi ci diamo dentro esatto come ci sono tre free plugin tre free plugin di potete scaricarvi subito a gratis esatto il primo è il classic clipper di k multimedia che non è esattamente free è free fino al 29 di questo mese se non sbaglio quindi direi assolutamente da non perdere andate sul sito di k multimedia lo trovate lì in home page è un clipper forse uno dei primi clipper software perché era compreso nella suite originale di t-rax non so se qualcuno se la ricorda quando era ancora stand alone ti ricordi max a quando era giallo se il robo giallo sì 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 cazzo me lo ricordo sì 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 al tempo era usava di brutto sì 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 per fare le cose un po home studio diciamo sì sì non poteva andare in uno studio di mastering comunque funzionava da dio ai tempi non c'era granché quindi quello era era stata una grande innovazione famosa suite per fare i mastering dei poveri sì una volta si era così però quella suite lì stefano era anche compresa cioè non compresa ma potevi comprarti l'espansione e installarla sui mixer della roland non so chi se le ricorda mi pare che si chiamasse vvs la serie vs che erano dei mixer con l'hard disk dentro che potevi fare tutto registrare editare mixare dentro questa queste macchine e c'erano degli effetti sulle tracce potevi anche comprare delle espansioni tra cui c'era anche t-rax quindi potevi già raggiungere buoni risultati anzi io conosco gente che l'ha usato per anni e non lo vuole neanche vendere perché un buon ricordo di queste macchine perché si riuscivano a fare delle cose comunque interessanti tornando a noi il plugin è molto semplice da usare avete un input questo gain l'output per abbassare o alzare se avete bisogno a livello di output potete cambiare la curva della saturazione ed è molto utile questo plugin per tagliare i transienti che in digitale di solito sono abbastanza difficili da gestire quindi se non avete già un clipper o anche se ce l'avete visto che è gratuito andate sul sito di capa multimedia basta iscriversi alla newsletter e riceverete tra le vostre licenze anche quella di classic clipper sì anche se avete già un clipper visto che è gratis prendetelo perché tanto suonano tutti diversi quindi magari può tornare utile anche se usate sempre altri clipper provate a cambiare a cambiare plugin in diverse situazioni perché potrebbe essere che funziona meglio allora after rouge dice che secondo lui questo suona meglio del standard clip non vuole dire la grossa ma secondo lui suona meglio a me lo standard clip non mi fa impazzire a volte va bene a volte non mi dice niente non sono sempre due o tre e li provo perché veramente secondo me cambia tantissimo da sorgente a sorgente se ognuno ha un suo suono e lo stesso lo stesso clipper che su una sorgente non va per niente bene per questo dicevo c'è il clipper proprio tutti ai plugin però il clipper c'è uno dice vabbè una volta che clipa clipa no secondo me suonano molto diversi ed è giù c'è quando uno non funziona provate a metterne un altro perché allora dice che secondo lui lo standard clip è superiore e dipende da dai gusti anche invece ar sound studio ci segnala il cazz rock clip non l'ho provato non ne parlano molto bene certo che con un nome così è nella lista dei plugin che dovrebbe l'abbiamo già detto un'altra volta sì ci vorrebbe un consulente prima di scegliere il nome di un'azienda proprio cazz rock non mi sembra al massimo ah beh perché perché facciamo un applauso che si è abbonato al nostro canale grande grazie 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 ragazzi vi ricordo che se volete potete abbonarvi se avete un abbonamento prime non vi costa niente abbonarvi a un canale se volete abbonarvi al nostro canale ci fa molto piacere sicuramente ci aiuta a andare avanti con la trasmissione quindi grazie mille intanto sì comunque grazie 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 andiamo con l'altra news scusa stai leggendo le domande sì stavo leggendo dobbiamo comprarci uno che legge le domande sì comprarci l'ho detto apposta no va bene ma non si può dire così max quando vedi i tuoi pedalini a proposito cosa cosa ha comprato stasettimana che pedalini hai comprato ora mi è appena arrivato mi è appena arrivato però siccome mi è arrivato vorrei lasciare c'è ancora imballato non posso farlo vedere perché non voglio che si veda da dove viene tutto qua quindi la prossima quindi non ci dici niente ci lasci così a bocca aperta la prossima volta lo sballo così lo faccio ma non è non è niente di fancy vabbè è lo small clone di elettro armonics sì sì che perché avevo lo small stone che si sentiva solo e allora ho preso lo small clone perché così almeno si fanno compagnia sono sono dei pedali veramente fighissimi non costano un cazzo boh l'ho pagato 70 euro 60 euro 70 euro mi ricordo neanche quanto e e sono plug in che fanno sì plug in buonanotte sono pedalini che fa che fanno i suoni quindi sì è vero che ti mangiano il segnale è vero che ci hanno tutta una serie di di menate eccetera però hanno un carattere hanno il mojo come come dicono quelli che parlano bene il mocio e quindi il mocio vileda sì e quindi sono secondo me sono pedali che è giusto avere perché nelle produzioni possono sempre tornare utili in più è cioè che peraltro penso che sia quello di do 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 da do da do 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 come cazzo si chiama il pezzo di nirvana non mi ero in mente questo momento comunque quello lì avete capito sì sì sa che era 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 lo small clone non sono sicurissimo perché non mi pare non sono super fan e quindi magari sto dicendo una cagata sto dicendo una cagata scrivetemelo nei ptp come as you are esatto stefano come as you are ecco esatto ha ragione stefano dice tra tutti i pedali che avevi non avevi lo small clone lo small stone come cazzo lo small clone non ce l'avevo e infatti ancora non ce l'avevo e ho detto non posso non averlo perché è vergognoso cioè inaccettabile e quindi e quindi ho posto rimedio alla mia mancanza sì tra l'altro questi pedali sono belli da usare anche non solo sulla chitarra ma anche sui synth sui piani elettrici e su molte altre sorgenti sono belli su tutto non è che dove dovete comprare solo se siete chitarristi sai che io sai che io non so che non so cosa sono io non me ne intendo poi mi chiama e dice come si fa quella cosa lì che non mi ricordo eh vabbè ma perché la chitarra ragazzi la chitarra sta tornando proprio con violenza ascoltate i nuovi singoli ascoltate le nuove top ten ascoltate c'è la chitarra ovunque perché è l'unico strumento che dà una sensazione di organico di suonato di vero la chitarra acustica anche elettrica sta tornando di brutto sta tornando bruttissimo sì 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 è in un sacco di un sacco di singoli nuovi cioè e poi a se siete chitarristi e volete sentire un chitarrista che ha un modo di suonare completamente diverso dal solito modernissimo è un ragazzo giovane ed è incredibile tim henson h e n s o n andate a vedere su youtube c'ha miliardi di visualizzazioni e mostruoso mostruoso vabbè l'angolo del chitarrista chiuso qua grazie francesco o studio ricordi an atlantine che si è abbonato anche lui grazie un bel appoggio per francesco grazie ragazzi grazie mille grazie mille grazie ragazzi grazie veramente qui sembra che siano tutti appassionati di chitarra o chitarristi quindi sì 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 uniti uniti per la riscossa però francesco dice che questi chitarristi fighetti non gli piacciono secondo me quelli fighetti quelli fighetti non mi fanno impazzire neanche a me però quello che c'è secondo me quello che bisogna apprezzare è che che ci sono dei ragazzi che cercano di aprire una strada nuova cioè invece di star lì a rifare vai e satriani che ci sono già e tanto meglio di così non li fai loro stanno cercando una nuova strada e tra tutte queste nuove strade probabilmente verrà fuori qualcosa di interessante e apriranno un nuovo filone che ridarà nuova linfa alla chitarra e darà stimoli ai ragazzi per per prendere in mano lo strumento e rimettersi lì a suonarlo così potremmo vendere tutti i tuoi pedalini no i miei non si vendono va bene ragazzi secondo plugin che segnaliamo che però avete già visto nel live mixing perché l'ho già usato è il nuovo spring di fus audio labs che anche questo è gratuito riproduce uno spring reverb con la possibilità anche di comprimere il il riverbero già all'interno del plugin poi abbiamo anche un predilay il un tone che chiude o le alte oppure le basse suona molto bene è molto interessante non ve lo fate scappare neanche questo perché è gratuito e ci sono anche sul sito di fus audio labs degli altri plugin gratuiti se non li avete già fatto direi che è meglio che ve li scaricate tutti prima o poi li userete fidatevi sì soprattutto lo spring perché ci sono due modi per mettere il riverbero alla chitarra uno è per inserire la chitarra all'interno di un ambiente e quindi si mette una room o si mette un plate a seconda delle situazioni però c'è anche un il riverbero sulla chitarra lo si mette anche in un altro modo cioè per dare la terza dimensione la coda che praticamente è quello che fa il riverbero all'interno dell'ampli e per fare questa cosa generalmente lo spring è quello più bello di tutti e siccome di spring belli in giro non ce ne sono e questo è bello eppure gratis non perdete l'ampli eppure gratis non perdete anche se è un batterista ma lo sappiamo evan che te sei un metallaro sì sì è uno di noi è uno di noi anche noi siamo travestiti il metal il metal è un genere strafigo chi però chi chi non c'è dentro diciamo lo vede un po come un gran bordello casino invece se se uno ha la pazienza di di entrarci dentro è un genere strafigo vabbè poi va a gusti ovvio cioè ci mancherà allora il terzo plugin gratuito è della nuova kiev audio ed è un'emulazione del pull tech q la figata come dice francesco è che anche l'oversampling direttamente qua possiamo arrivare fino a 16 per a tutte le funzioni di un pull tech suona come un pull tech io direi che è da scaricare subito non so se rimarrà sempre gratuito per il momento lo è avete anche un potenziometro qua sotto mix che attenzione non mixa il segnale dry con quello equalizzato ma introduce la saturazione quindi se volete aumentare la saturazione interna che arriva arriva addirittura distorsione al suo massimo utilizzate questo potenziometro mix anche se gratuito suona molto bene ed è concorrenziale con gli altri plugin a pagamento anche se anche qui se avete già un pull tech scaricatevelo lo stesso perché comunque lo troverete utile comunque sì anche perché il fatto i plugin non sono gratuiti perché perché non sono a livello di quelli a pagamento sono gratuiti per questioni di marketing ma il livello dei plugin gratuiti molto spesso quasi sempre è il livello di quelli a pagamento quindi visto che sono gratuiti perché non non appropriarsene anche perché come dicendi giustamente non è detto che poi rimangano gratuiti per sé quindi già che sono gratis andate quelli a pigliare sono distorto dice che è cresciuto con l'elettronica tipo massive attack underworld chemical brother e il metal non l'ha mai sentito suo guarda io adoro i massive attack anche se mi piace comunque anche la musica rock e metal ma anche l'elettronica soprattutto anni 90 fine 90 quando ha cominciato a contaminarsi con i campionatori e un po' con la dance prodigi eccetera hanno fatto delle cose secondo me fantastiche sì 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 esatto come dice Francesco è roba di qualità comunque quella sì esatto secondo me anche per i ragazzi che sentono adesso cominciano ad avvicinarsi alla musica lo so che mi sembra un discorso che faceva mio padre però sì 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 è un po' un discorso da vecchi sì però quando ci dicevano di ascoltare i Beatles ci avevano ragione e quindi quando dicevano eh sì però i Pink Floyd ci avevano ragione e quindi sì questa roba qui è roba figa che andrebbe ascoltato sì magari rubate anche delle idee visto che le produzioni moderne si assomigliano fin troppo l'una all'altra quindi perché ricordate sempre che eh gli stolti copiano ma i saggi rubano ciao Giovanni wow Giovanni ha detto che con la sua band aveva fatto un mini tour con i Cannibal Corp grandissimo grande grandissimo e come sono da raccontaci come sono dal vivo dal vero perché molte di queste band che fanno le facce cattive quando le poi le conosci sono dei bravi ragazzi esatto esatto non tutti eh alcuni sono ancora peggio di quello che sembrano sì 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 però altri no poi ci sono quelli che sembrano dei bravi ragazzi su youtube e invece sono dei figli di sono dei sì che saremmo io sarei io eh che poi magari non sembra un bravo ragazzo ah giusto è vero magari bravo sì ma ragazzo ormai è un po' andato è un bravo ex ragazzo sì 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 però la rubrica largo ai vecchi è dopo adesso direi di lanciare è dopo la tecnica esatto vai con la sigla questa è la nostra sigla che potete sentire anche nei nostri video tutorial che abbiamo ricominciato a pubblicare su youtube da poco quindi ogni settimana al mercoledì uscirà anche un altro un nuovo video tutorial gratuito questo direttamente sul nostro canale youtube e se potete iscrivetevi che ci fa solo piacere mettete i like, commentate che ci aiuta a far crescere il canale sono dei cuccioloni metallari sì è vero è vero è verissimo guarda chi è che l'ha detto Francesco bravo è verissimo è verissimo quasi tutti quasi tutti sì non tuttissimi ma quasi tutti sì sì un bel 90% sì allora la tecnica di oggi visto che parleremo dei nir riguarda il famosissimo 1073 che è il preamplificatore è un equalizzatore più famoso forse della storia direi sì è probabilmente sì molto semplice insieme agli API magari sì beh sì API magari in America però qui in Europa sicuramente è il famoso NIV è un equalizzatore molto semplice da utilizzare a tre bande le alte sono fisse le medie e le basse hanno la frequenza selezionabile comunque selezionabile non non ha un potenziometro continuo per selezionare la frequenza quindi ha degli dei valori predefiniti ed è proprio questa la magia di questo plugin che può sembrare limitante ma queste frequenze sono state sono delle frequenze chiave che vi permettono in poco tempo di migliorare qualsiasi sorgente e infatti oggi parliamo proprio di questo cioè di come sono state scelte le frequenze come sceglierle e come sceglierle per migliorare le vostre per equalizzare le vostre tracce ad esempio se volete equalizzare una cassa già utilizzando lo shelving sulle basse a 35 o 60 Hz ma direi di partire da 35 boostandolo e boostando le medie frequenze a 7.2 per enfatizzare il battente del pedale già così riuscite a creare un suono di cassa più interessante per il rullante invece basta boostare i 220 Hz e la punta la retina diciamo del rullante intorno ai 7.2 kHz sempre e già così riuscite a dare corpo con i 220 e tirare su le alte frequenze del rullante a 7.2 per il basso potete enfatizzare sempre i 35 Hz e trovare la presenza intorno ai 700 Hz ma se è troppo nasale andate un po' più su a 1600 qui troverete anche il suono delle corde ideale se è un basso rock o metal come dicevamo prima se volete tirare su anche il 60 Hz a seconda del basso della produzione di come suona la cassa potete scegliere la tonalità 35 o 60 esatto per le chitarre potete boostare con i 220 Hz il corpo delle chitarre e invece la presenza la trovate da 1.6 a 4.8 quindi 1.6 3.2 o 4.8 potete enfatizzarli per la presenza delle chitarre sì anche quello a seconda del tipo di chitarra perché per esempio se state facendo metal e sono delle chitarre tunate tunate basse magari provate anche la frequenza prima del 220 esatto esatto oppure se sono troppo harsh potete attenuarla invece per la voce ovviamente con il shelving sulle alte frequenze potete tirare fuori l'aria attenzione a non esagerare perché lo shelving è molto generoso quindi va molto in basso potete enfatizzare dargli più presenza boostando l'1.6 o il 3.2 o anche il 4.8 e se volete più corpo potete boostare o i 110 o i 220 a seconda che sia maschio o femmina a seconda della tonalità a seconda che canta basso o urla in alto eccetera se poi avete sentite che riuscite a dare più corpo ma ci sono troppe basse con l'i-pass filter potete tagliare le frequenze più basse comunque capite che con queste poche frequenze già selezionate e pochi passaggi pochi movimenti riuscite in modo veloce a dare un suono a qualsiasi sorgente e un carattere esatto se non avete la UAD con l'emulazione NIV originale ufficiale diciamo ci sono tantissimi cloni plug-in più famosi sono il VEQ3 di Waves e lo Chefs 73 sì molto bello quello lo Chefs 73 poi anche l'Omni Channel di Chefs mi sembra che alcune delle bande dell'EQ sono prese da questo però secondo me non mi ricordo quali sì però non è presettato quindi questo trucco non funziona poi magari dell'Omni Channel parleremo in qualche altra puntata perché ha delle cose molto interessanti sì lo Chefs è molto bello bisogna stare attenti con lo Shelby in alto perché è un attimo che diventa che diventa vetroso quindi bisogna stare attenti la cosa bella per esempio è se lo usate in una sorgente stereo per esempio gli over della batteria lo potete usare in MS quindi potete potete equalizzare diversamente il centro e i site in modo da da trattare in maniera diversa magari piatti e rulante per esempio ciao Gigi Canfa benvenuto ciao chiede della sezione pre allora io non la uso tanto ti devo dire la verità sui plugin preferisco saturare e saturare con qualcos'altro che è un po' più versatile qui bisogna stare un po' attenti sia l'UAD che è quello di lo Chefs 73 hanno la sezione pre il VEQ3 non ce l'ha quindi dipende da un po' dall'emulazione che utilizzate tu Max non so se la usi la saturazione no la uso pochissimo anch'io tra l'altro non mi ricordo bene perché è un po' che non lo uso quello di Chefs ma mi sembra che abbia due cioè ha lo slider a destra e poi ha il potenziometro in alto che sono due due sezioni lo slider a destra è l'input invece il potenziometro lo fa con lo slider sono due modi di far saturare in maniera diversa uno è quanto sta entrando e l'altro invece fa saturare il preamplificatore poi puoi scegliere il segnale di linea o il segnale microfonico quindi satura ancora anch'io lo trovo abbastanza violento per questo sì anch'io per saturare preferisco dei plugin che mi danno un pelo controllo perché se poi va un po' fuori controllo preferisco sapere cosa sta succedendo e quindi lo uso poco anch'io la parte la parte di pre e non usando Apollo con Unison e quelle cose lì la parte pre non la uso mai ok direi che è arrivato il momento della nostra rubrica preferita la nostra preferita Largo ai vecchi Largo ai vecchi per chi ci vede per la prima volta intanto che io preparo le cose Max racconta sì allora Largo ai vecchi è una rubrica in cui facciamo vedere dei plugin che nonostante siano sul mercato da un sacco di anni sono secondo noi ancora a livello di quelli nuovi non sono per niente superati e siccome si tende tutti quanti compresi noi tendiamo ad appassionarci ai plugin nuovi perché siamo gasati perché appena uscito e tendiamo a dimenticarci di plugin strafighi che però magari non usiamo da un po' con questa rubrica cerchiamo di mettere sotto il riflettore un plugin vecchio ma ancora molto figo così magari vi ricordate ah sì lo usavo e magari ricominciate ad usarlo o non l'avete mai usato magari ce l'avete già e non vi ricordate neanche di averlo esatto così a noi non succede mai questo questa cosa non ci succede no perché ne abbiamo pochi e quindi usiamo sempre quelli esatto facciamo come possiamo sì magari per un mese usi un plugin e dici cazzo bellissimo lo userò per tutta la vita bellissimo non riesco non posso farne a meno non ti ricordi neanche più come si chiama per esempio il CQ di cui abbiamo parlato prima cazzo lo usavo dappertutto non mi ricordavo neanche più che c'era adesso figura comunque il plugin di questa settimana è il plugin di questa settimana è l'ultra pitch di Waves Audio uno dei primi pitch shifter non mi ricordo al tempo cosa c'era Max non c'era tanta roba ah no non mi ricordo neanche io non c'era tanta roba stiamo parlando di vent'anni fa anche di più forse stiamo parlando subito dopo la seconda guerra mondiale subito subito dopo la data di nascita di Max insomma esatto più o meno quelli sono gli anni esatto c'erano ancora le carrozze calessi le strade non erano asfaltate sì sì sono distorto non l'ha mai usato però ce l'ha vedi infatti vedi 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 eh sì allora devo dire che in realtà ultimamente è tornato molto in auge perché l'ho visto utilizzare in tantissime produzioni hip hop e trap per pitchare le voci proprio per l'uso sulle voci infatti non suona naturale ma il suo suono è molto caratteristico quindi può essere usato agevolmente su qualsiasi produzione ormai l'hanno usato talmente tante volte che il suo suono ce l'abbiamo nell'orecchie e ci siamo anche abituati poi ci sono dei generi musicali in cui è proprio ricercato il fatto che non suoni naturale ma suoni un po' elettronico diciamo tipo la trap tipo l'hip hop rap quei generi più dei giovani più moderni non per noi per i giovani la musica la musica dei giovani esatto no a me piace io sono un fan di Sfera qui lo dico e mi assumo tutte le mie responsabilità mi sa che verrai linciato qua allora adesso lo dico così fra dieci anni ci sarà un video e io l'avevo detto Sfera qua insultatemi nei commenti sono pronto Sfera e basta è l'unico vero erede di Vasco Rosso e qui è calato il silenzio io ne sono convinto cioè non lo so tu ti assumi le tue responsabilità io mi assumo le responsabilità ogni cosa che dirai potrà essere usata contro te stesso e so che tu ti dissoci e quindi e sono solo io che penso questa cosa non è MK DJ è favorevole anche a lui piace grande grande anche Francesco viva Sfera e basta vedi mi ero sbagliato mi ero sbagliato vedi vedi ragazzi Sfera Sfera è veramente grande ci sono tanti giovani allora tornando a questo plug-in sono distorto chiede se dice che nella trappa usano il wave tune ma per tunare la voce ma questo serve per tunare e per fare l'effetto quello lì dell'auto tune questa è un'altra cosa come fa l'effetto scusa adesso tagliamo sai che tagliamo la clip e la manderemo a ripetizione in tutte le nostre certo poi mi fanno come si chiamano quei roi i gif meme il meme no no le gif gif meme non so vabbè non sei moderno Max no no su questa roba qua no zero proprio anzi mi fanno anche cagare quelle robe mi annoiano va bene allora questo plugin esiste sia in versione a tre voci che a sei voci questo che vediamo qua è a tre voci quindi può creare tre armonizzazioni che possiamo scegliere dove posizionarle qui abbiamo questo grafico che rappresenta sull'asse delle x la formante e sull'asse delle y il pitch quindi possiamo accendere una delle nostre voci vedete che si è acceso questo pallino qua rosa e possiamo spostarla per cambiare la formante e il pitch vedete che anche se è vecchio non è che suona così male tra l'altro per esempio per dare corpo a una voce così molto sottile è l'ultima hanno già fatto il clip con l'autotune di Max ma sei fregato grande bastardi va bene come i pezzi di Germania oggi non abbiamo parlato dei pezzi di Germania noi abbiamo parlato dei pezzi di Germania perché il small clone non è fatto con i pezzi di Germania non è fatto con i pezzi di Germania vabbè ora se sono qui per essere no vabbè trattatemi peggio ok poi torniamo ai nostri argomenti dai se volete no dicevo che che per per rinforzare una voce un po' sottile per esempio messo sotto l'ottava bassa è molto utile per esempio e non suona neanche così artefatta questa ultima che abbiamo sentito esatto esatto infatti anche Francesco dice non suona male guarda per la sua età non suona male poi alcune voci fa un po' più fatica alcune meno però in generale non suona male e la formante sì è tipo quella di Melodyne poi se volete degli intervalli precisi cliccando qua dove c'è scritto pitch dove avete per ogni voce la sua impostazione potete scegliere l'intervallo che preferite adesso abbiamo selezionato un'ottava in basso e una quinta sopra poi possiamo mettere una quarta sotto anche così attiviamo tutte e tre le voci non suona per niente male poi vedete su questo grafico qua avete gli stessi pallini che ci servono per spostarli nel panorama stereofonico e anche alzarli o abbassarli di volume di abbassare e alzare di volume ogni voce potete farlo qua sotto a mano inserendo i numeri oppure dal grafico e in più c'è questo parametro animation che altera un pochino i valori per dargli più una umanizzazione tra virgolette quindi un plug-in passato un po' come si dice in sordina negli ultimi anni ma allora l'unica cosa che non ha è il pitch intelligente per le tonalità sì scegliendo la scala quindi ovviamente se si mette la terza bisogna stare attenti perché potrebbe non essere per sempre eccetera eccetera perché non segue la tonalità se gli date una terza maggiore fa sempre la terza maggiore e quindi questo è un limite ma è l'unico secondo me il limite che ha per il resto suona benissimo ed è un plug-in strafili se la terza gratta dovete rifare la frizione forse se la terza gratta sì va bene ragazzi direi che siamo arrivati ah no prima 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 eh no eh no prima 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 dobbiamo parlare di un'altra cosa siete pronti? ah no appunto non è che dobbiamo parlare dobbiamo regalare esatto 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 siamo arrivati al momento del giveaway esatto prima di fare qualsiasi cosa le regole allora la regola è questa la risposta deve essere scritta correttamente se ci sono errori di battitura non scartata viene scartata il giudice unico totale nel momento in cui lui dice che uno ha vinto fine della questione non ci sono polemiche non importa non ci sono cose cioè lui una volta che ha deciso quello è non si può ho deciso che lo vinco io il plugin esatto perché cioè no succede se non vincete non vi incazzate è un gioco gioco capisco che avere il plugin gratis però dai cioè così anche per per stare in allegria bello e quindi la regola è che deve essere scritto correttamente la prima risposta che compare in chat vince ok la domanda è la domanda deve essere scritto correttamente maiuscole minuscole però non c'entrano quelle fa niente no non c'entrano però le lettere devono essere quelle giuste siete pronti come si chiama l'inventore del distressor adesso c'è un po' di latenza quindi dobbiamo aspettare un attimo c'è un po' di latenza poi basta andare su google ma a parte che secondo me lo sanno perché nome e cognome nome e cognome sì nome e cognome nome e cognome il distressor è il plugin fermi è già arrivato il vincitore eccolo chi è? Stefano Ragni ha vinto il comprexor quella grande grande complimenti bravissimo grande complimenti bravo Dave Dare che tra l'altro prima di fondare l'Empirical Labs lavorava per Eventide per chi non lo sapesse Eventide sì come dicevamo come abbiamo detto altre volte da Eventide sono venute fuori i punti sopraffine quelli di Soundtoys quelli di Strymon Strymon e Dave Dare che ha fatto Empirical Labs tutta gente che sa quello che fa diciamo e lo ha dimostrato nel tempo Strymon per chi non lo sapesse sono pedali per chitarre in DM su Instagram oppure su Facebook che ti facciamo avere la licenza e comunque non è finita qua vi ripetiamo perché c'è un'altra licenza in palio tra tutti quelli che sono iscritti a Free Videos quindi su recamix.it andate nella sezione Free Videos la vedete lì sul menu in alto sul menu e potete iscrivervi gratuitamente Free Videos e ci trovate dentro più di 40 video gratuiti su tecniche di mix plug-in eccetera eccetera e questo qui è l'altro modo di vincere basta che ti iscrivi a Free Videos adesso vi incollo qui il link e per chi lo sta riguardando il video su YouTube lo troverete nella descrizione comunque questo è un regalone quanto costa questo plugin questo è un botto no mi pare che il lancio costasse 99 ah cazzo questo è un super regalone ringraziamo cioè ringraziamo gli amici di K Multimedia grazie mille gli amici di K Multimedia che ci hanno permesso che ricordiamo per chi non lo sapesse essere un'azienda di regalare queste due licenze è un'azienda italiana che ha che ha poi una sede anche in America ma è un'azienda che sta spaccando veramente sia nei plug-in che nell'hardware ha fatto delle casse molto usate piccoline da usare come come ascolto di riferimento diciamo come reference in tutti gli studi sia sia negli studi che anche che anche negli studi professionali hanno fatto l'iRig che è che è una cioè che è un'interfaccia per poter suonare la chitarra con l'iPhone cioè hanno fatto un sacco di figate un'azienda italiana veramente veramente figa quindi ringraziamoli perché ci hanno dato le licenze per poter regalare questi due plug-in allora ciao Massimo e allora in il compression è ancora in offerta e adesso viene 99 euro e 99 centesimi più IVA ma il prezzo regolare sarà 129,99 più IVA e vi ricordo l'abbiamo detto anche prima ma è passato un po' di tempo sul nostro canale YouTube c'è un tutorial su come utilizzare al meglio il compressor e poi anche il distressor perché tanto sono uguali è molto figo fatto bene l'ha fatto Andy quindi io posso dirlo è sul nostro canale YouTube andatelo a vedere perché lo vedete in azione e poi volevo dire una cosa volevo dire una cosa minchia quanto parli abbiamo il nome per questa fantastica trasmissione che facciamo a lunedì vuoi dirlo te il nome visto che l'hai inventato te no mi vergogno the audio nerd show faremo una sigla prima o poi la faremo diciamo che 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 se vi piace o non vi piace fatecelo sapere ma tanto si chiama così lo stesso però no questa è una democrazia sì no allora no se fa cagare a tutti ovviamente faremo ci sarà un'altra riunione di condominio per decidere un consiglio d'amministrazione per decidere il nome però a noi sembrava carino the audio nerd show Francesco e Massimo hanno già detto che va bene quindi direi che va bene ok perché siamo tutti nerd qui quindi siamo siamo una banda di nerd e quindi allora siamo indecisi Stefano siamo indecisi se fare una sigla seria o una sigla un po' da ridere Stefano consiglia la sigla di Wayne's World bellissimo sarebbe forte tu non sai cos'è ovviamente Max cos'è? Wayne's World non ho capito di qua Wayne's World fusi di testa non l'hai mai visto? no no dai ma cazzo ero già vecchio sapete che Max non ha mai visto Guerre Stellari no 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 mai visto cioè Star Trek è la stessa cosa no perché non ho mai visto neanche Star Trek no dai insultatelo pentiti ti stanno dicendo no allora no Star Trek ho visto qualche puntata del telefilm con con coso lì quello che faceva anche TJ Hooker il Capitano Kirk ah lo stesso Captain Kirk non so è lo stesso anche nel film? no no io Star Trek non l'ho mai sopportato dico la verità ah ok ah io pensavo pensavo che pensavo che Guerre Stellari forse Star Trek sì mamma mia siamo messi male ragazzi qua ma no queste cose non possiamo fare una trasmissione di cucina questo è appurato ma neanche questo ma neanche sui film ma perché noi siamo scienza non fantascienza potevamo stupirvi siamo scemenza non scienza esatto non siamo fantascienza siamo fantascementi vabbè e comunque allora no allora non possiamo purtroppo usare nessuna di quelle quelle sigle lì perché molto probabilmente ci butterebbero giù i video perché YouTube ha delle ha delle regole molto molto restrittive diciamo restrittive riguardo al copyright eccetera che su questo si potrebbe anche fare tutto un discorso giusto o non giusto perché da un lato è giusto da un lato anche così così non la cosa non è ancora gestita al meglio secondo me e quindi non possiamo usare le sigle cioè si usiamo questi spezzettini qui ovviamente noi non essendo una democrazia YouTube ci dobbiamo ottenere alle sue regole esatto 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 niente in rete è una democrazia in realtà purtroppo però va bene così lo stesso se non ci fosse YouTube non potremmo e se non ci fosse Twitch non potremmo fare queste cose qua quindi comunque grazie però diciamo che se le regole grazie grazie anche sì e grazie non si può dire neanche quello non si può dire se no ti fai buttare no no si può dire si può dire grazie grazie e poi c'è e grazie al cazzo ecco no perché cioè e poi passiamo al clou della serata però questo discorso del copyright in rete è un discorso molto serio ed è un discorso che fino adesso è stato affrontato veramente in modo quasi bambinesto mi è venuta un'idea devo prendere la musica di Quark per quando fai i discorsi seri ah quando facci i discorsi seri quando parti con i discorsi seri sì perché è una cosa questa è una cosa cioè ci tengo un pochino a questa roba qua perché cioè il copyright è una cosa seria i diritti d'autore sono una cosa seria sono una fonte di guadagno per gli artisti e per chi fa musica eccetera sono una fonte di guadagno importante trattarla così a cazzo di cane mi sembra veramente cioè che non ci vuol niente a mettersi sedersi lì e fare qualcosa di più intelligente di quello che stanno facendo però avranno i loro motivi che io non conosco e quindi il sermone finisce qui amen si staranno ancora mettendo d'accordo si infatti è tutta una questione di cioè c'è sempre la questione economica dietro che e la questione economica non comprende mai gli artisti indipendenti comprende è sempre una questione economica tra gli editori major e le piattaforme il discorso è sempre loro e noi ci dobbiamo attenere a quello che viene fuori ma va bene così lo stesso ci mancherà allora arriviamo al momento clou al clou avevamo dato un nome a questa cosa eh sì eh sì però adesso non me lo ricordo più sì perché l'avevo l'avevo copiato l'avevo rubato a GHS a proposito di copyright no? ovviamente a proposito di copyright dobbiamo fare una pubblicità dobbiamo fare una trasmissione sull'Alzheimer tra un po' sì eh minchia minchia lì sì quindi il clou di questa puntata è il confronto tra i compressori NIV che adesso Andy vi spiega perché sono diversi da tutti gli altri compressori perché costano di più no scherzo esatto perché sono più belli no no usano una topologia come si dice per chi è un gergo colto diciamo ti è piaciuta Max? sì 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 aspetta ti ho fatto studiarmi che per un cazzo usano una topologia diversa come ci sono i compressori FET tipo l'1176 oppure vari MU tipo il Far Child o ottici con la cella ottica interna questi compressori usano il ponte di diodi per come elemento per la gain reduction e quindi hanno un suono particolare il NIV che vedete qui che è l'emulazione creata da Universal Audio e ufficialmente brandizzata da NIV è l'emulazione del 33609 che non è il primo compressore di NIV ma è il successore del 2254 che è uno dei più famosi compressori che era nei banchi della serie 80 questo che vedete qui di Lindel che utilizzeremo in questo confronto è l'emulazione del 2254 che era mono mentre il 33609 è stereo oltre alla caratteristica per creare la riduzione la gain reduction di questi compressori abbiamo il fatto che combinavano tra di loro sia un compressore che un limiter che attenzione non è un brick wall limiter ma è un compressore con una ratio molto alta quindi il segnale entra passa prima dal compressore e poi va dentro il limiter nella macchina originale non abbiamo un'impostazione di attacco l'attacco è fisso a 3 millisecondi in questa emulazione di universal audio possiamo anche usare l'attacco slow del compressore che è 6 millisecondi che è una modifica aggiunta perché molti facevano modificare la macchina originale per avere la possibilità di avere due valori di attacco abbiamo 5 valori di ratio diversi tra cui l'1.5 a 1 che è una ratio molto bassa che però pochi compressori hanno soprattutto quelli vintage quelli moderni hanno un po' di tutto ci sono anche quelli con la ratio continua quindi potete utilizzare comunque valori di ratio bassa e l'altra particolarità è che abbiamo il rilascio a scatti ma con due rilasci automatici a 1 e a 2 uno un po' più veloce e uno un pochino più lento quindi che si adattano in automatico al segnale in transito dopo il compressore come abbiamo detto il segnale entra nel limiter che può essere anche disattivato oppure potete disattivare il compressore e utilizzare solo il limiter dove abbiamo anche lì una impostazione dell'attacco o veloce o lento il recovery o release selezionabile con sempre due tempi automatici e la threshold basta questo è il compressore la particolarità è il suo suono e adesso lo sentiremo e sentiremo il confronto con gli altri plugin il primo che devi dire qualcosa Max no 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 sentiamo i diversi caratteri cioè come al solito qua cioè questi confronti sono fatti per far sentire i diversi caratteri dei diversi plugin è ovvio che sono regolazioni di massima per far sentire il carattere non pretende di essere proprio una prova scientifica al millimetro tant'è vero che uno uno o due non mi ricordo di questi non è un 33609 ma un 2254 adesso li faccio vedere tutti lo spiego esatto però comunque è per sentire il carattere di un compressore del compressore NIV che lavora in maniera diversa da tutti gli altri vi ricordo che l'hardware è il plugin che usa per le parallel sulla batteria Cristor Dalgi l'hardware non il plugin l'hardware si l'hardware l'hardware è stato usato da sempre sul bass sul mix bass da da che poi ha iniziato a usare il plugin e adesso i compressori sul mix bass non li mette più si vedono poco ma sono molto usati allora il primo che useremo è l'emulazione di Universal Audio per se avete la potete utilizzare se avete le UAD2 o anche la UAD1 perché se qualcuno è rimasto con la UAD1 oppure le interfacce Apollo è un'emulazione come abbiamo detto pari pari poi sono state aggiunte delle funzioni nell'ultimo update che è gratuito quindi chi non l'ha ancora fatto può fare l'update e si troverà queste modifiche che vedete qua sotto c'è il mix dry wet l'ipass filter sul side chain un paio di altre cosette poi abbiamo l'emulazione di Acoustic Audio che è contenuta all'interno della suite Navi 2 il comp 2 è il 33609 quello attualmente commercializzato da AMS NIV quindi non quelli vintage perché Navi 2 da quello che si capisce nella descrizione campiona tra virgolette le macchine originali ancora in produzione poi abbiamo un'altra emulazione del NIV 33609 quella di K Multimedia che qui si chiama Precision Comp Lim che anche questo ricalca tutti i controlli della macchina originale ed è quello nella nuova suite giusto? no quello nella nuova suite è quello di Arturia scusa Arturia che è questo qui che vedete adesso che si chiama CompDiode 609 che ha delle cose in più perché l'attacco è variabile ha molti più valori di attacco oppure possiamo usarlo fisso come la macchina originale poi al solito pannello advanced che trovate in praticamente tutti i plugin di Arturia non i Synth sto parlando dei plugin dove ci sono delle cose in più quindi potete cambiare il segnale di sidechain aggiungere un drive cioè aumentare la saturazione interna c'è anche il look ahead quindi delle funzioni aggiuntive che adesso non useremo perché abbiamo tenuto le impostazioni come se fosse la macchina originale in modo da poterle replicare su tutti i plugin l'ultimo plugin è un'emulazione del 2254 quindi non del 33609 che ovviamente suona un pochino diverso ma il carattere più o meno è quello ed è un'emulazione di l'indel audio che è commercializzata da plugin alliance che trovate in molti dei bundle di plugin alliance l'abbiamo utilizzata perché è una versione modificata del 2254 che ha il rilascio a 100 millisecondi che le emulazioni o le unità originali di 2254 non hanno per esempio il vcomp di waves audio che è un'emulazione sempre del 2254 non ha il release a 100 millisecondi ma parte da 400 millisecondi come nella macchina originale poi le macchine ci sono stati degli upgrade tantissime modifiche quindi molti 2254 hanno l'impostazione a 100 millisecondi infatti quella emulata dall'indel ce l'ha e quindi useremo questa vi ricordo che le impostazioni sono uguali su tutte le emulazioni abbiamo utilizzato la stessa quantità di gain reduction più o meno quindi la threshold l'impostazione del potenziometro della threshold non corrisponde fra le varie emulazioni e anche il gain di uscita a volte non corrisponde perché a volte sembra più basso a volte sempre più alto quindi abbiamo cercato di matcharlo in modo da capire un po' cosa stia succedendo quindi andiamo col nostro confronto come al solito sentiamo prima due misure con poi scusami due misure senza poi con un plug-in poi senza poi con l'altro fino ad arrivare alla fine e poi ci fermiamo e facciamo tutte le nostre considerazioni vai prima dove lo sentiamo su una batteria prima lo sentiamo su una batteria ok partiamo via vai cosa avevo detto una batteria sì ma c'era la batteria sì c'era la batteria ho sbagliato io va bene dai se ne sei foda eh va bene adesso però fate il meme anche di questa cosa qua eh sì bravi bravi ma no cosa ho fatto c'era sulla batteria solo che lo devo trovare dove sarà eccolo qua dove sarà l'ho trovato l'ho trovato questo non c'entra eccola qua come si dice è il bello della diretta è il bello della diretta vado? perché no sì 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 vai bene sono stato troppo veloce no no cioè almeno per me no ok allora devo dire la verità è la prima volta che mi succede di tutti i confronti che abbiamo fatto io non c'è mi sembrano tutti belli sono diversi sono diversi sono diversi però non c'è non sarei in grado per poter decidere quale usare dovrei capire il contesto del mix perché sono tutti belli e fanno cioè tirano fuori un carattere è ovvio che li usa sulle batterie cristordali mica scemo c'è poi l'hardware perché da proprio cioè tira fuori tira fuori tutto il bello della batteria non so come so come dire mette sotto controlli transienti tira fuori tutto il bello c'è più snap senza però essere avere un transiente invadente o a me piacciono tutti non saprei dovrei capire il contesto del mix ciao giova non so se sei già venuto a vedere le nostre dirette i nostri video quando li pubblichiamo su youtube se stiamo facendo la comparazione tra le varie emulazioni abbiamo già fatto quella del 11 76 del 10 73 del bass compressor ssl e vari plugin le trovi tutte su youtube adesso oggi facciamo quella del nivel 33 609 dicono che tu dici così perché non c'è l'emulazione di slate su questo come come direbbe più o meno dicono tutti che ognuno ha il suo perché come dici tu se massimo largodati dice che wadi è molto morbido gli piace molto ma anche il quarto gli piace molto il quarto che è il nuovo di arturia sì sì sono belli sono sono veramente tutti belli allora giova gas dice che la prima volta che ci vede la live mi ha avuto il piacere di conoscere maxi in studio a milano magari ti viene in mente ma lo so benissimo certo certo no no ma cazzo questo dimmi qualcosa in più perché mi ricordo perché giova gas è il tuo nickname anche su instagram e me lo ricordo benissimo speriamo che dai facciamo una carambata di non averlo trattato male come faccio mio solito no scherzo io tratto tutti bene sì massimo anche quello di arturia è bello sì 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 poi c'è tutte quelle le modalità da esplorare che sono i tempi di attacco diversi poi c'erano delle altre emulazioni anche potevamo includere perché di emulazioni del 22 54 ce ne sono molte di più ma abbiamo voluto limitare questa comparazione per non creare troppa confusione siamo stati in studio da massimo casa a milano dice ah cavo ma certo certo grandissimi me lo ricordo benissimo certo 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 tu non c'eri è una produzione che aveva fatto massimo a cui io avevo partecipato al cortile studio che è uno degli studi storici sì sì caspita stai bene perché adesso arriva il caldo giuli da voi il cortile studio è uno studio bellissimo super vintage che c'è a milano nella zona iso di fianco al blu no di Milano e qualche anno fa avevamo fatto la produzione di questi ragazzi che facevano fortissimi che fanno rock non penso che la band ci sia più vero però vedo sempre Gianluca che sta impazzando su tiktok e su instagram vabbè scusate per le cose personali non usa non si fa l'uso personale del servizio se volete vi apriamo un canale solo per voi così parlate ciao Giova poi ci sentiamo ciao Giova grazie di essere con noi stasera grazie di essere con noi si dice non lo so ma noi qua si può dire possiamo dire quello che vuoi allora andiamo con l'acustica sì vai grazie a tutti 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 devo dire che sono proprio la morte sua dell'acustica secondo me ci sta bene devo dire che lo devo usare un po' di più questo compressore io lo uso regolarmente sul mix bus lo uso ogni tanto sulle parallel della batteria ma lo devo usare più spesso perché è veramente figo allora grazie a seconda grazie a tutti ogni plugin andrebbe tuiccato in modo da ottimizzare il plugin stesso, però per il nostro intento qui non aveva senso. Però io sento sempre bene Wadi, perché è bello preciso, bello pulito, però ho sentito anche, mi sembra fosse Acustica Audio, che dava una bella pancia, senza far diventare però la chitarra gonfia sotto. La rendeva, gli dava quella grossezza analogica sulle basse, che non vuol dire un cazzo, però per intenderla. Allora, After Rouge dice, Arturia mi è sembrato un po' lento, T-Rax aggressivo ma non male, gli altri belli a modo loro. Massimo Laudati, Acustica Audio, non mi è piaciuta per niente, bello Wadi, bello IK, Arteria, che sarebbe Arturia, non mi è piaciuto moltissimo, Plugin Alliance, così così. Stefano Ragni, Arturia e un pochino anche Wadi mi danno l'idea che l'hanno fatto sedere un po' di più. Francesco dice che Wadi è strarispettoso della fonte, stramorbido. Sì, su questa parte qua, se io avessi dovuto deciderne uno così, proprio che pistola alla tempia, Wadi. After Rouge dice, infatti, in generale Wadi è una garanzia per un suono pulito, dettagliato e trasparente. Sì, sì. Purtroppo sì, purtroppo, no, purtroppo. Nel senso che non mi sono simpatici. Perché non ti stanno simpatici? Eh, non mi sono simpatici, che cazzo ne so, io ho delle mie… Facciamo un altro martire de… No, 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 no. Justin Slater non ti sta simpatico. Guarda, Wadi, Wadi, ho due satelliti e non mi bastano, quindi… E' per questo che non ti stanno simpatici. Perché ne devi comprare un altro? Perché devo prendere un altro satellite. Però, no, i plug-in di Wadi, devo dire la verità, cioè, sono una sicurezza. Detto questo, costano una fucilata, quindi se li dovete comprare, aspettate le varie offerte, che ce ne sono sempre un sacco, e approfittate delle offerte. Però sono plug-in spettacolare, non c'è l'intera dire. Andiamo con il mix? Sì, perché si usa molto sul mix bus. Noi regolarmente lo usiamo sul mix bus. Sì, se avete visto i live mixing che facciamo di giovedì, vedete che sul mix bus c'è sempre il 33609, perché, come avete già sentito, ma adesso nel mix sentirete ancora di più. Solo inserendolo porta avanti il segnale, ingrossa le basse, come diceva prima Max, dà già una tridimensionalità al segnale e in qualche modo lo rende più vicino a quello che può fare una macchina analogica. Quindi per noi è un plug-in fisso sul mix bus. Sì. Poi ovviamente c'è quella produzione che non lo richiede e non lo usa. Sì, diciamo fisso al 98% delle volte. Poi ci può essere quel caso in cui ci sta meglio un'altra cosa. Però è raro. Sì, Ivan, ogni tanto UAD fanno delle offerte tipo tre plug-in più uno in regalo a 399 euro, quindi alla fine paghi 100 euro a plug-in. Secondo noi sono quelle da tenere un po' più d'occhio. Sì, sono quelle lì da tenere d'occhio. Secondo me il prezzo giusto, cioè giusto, nel senso, siccome c'è la possibilità, tenete d'occhio le offerte in cui andate a pagare più o meno 100 euro a plug-in. Quelle offerte lì 100, 120, ce ne sono spesso e sono soldi spesi bene. Sì, adesso sta dicendo Ivan... Noi non guadagniamo una lira, non vorrei che... Cioè, non ci danno né i soldi, cioè niente, proprio... No, no, perché magari uno pensa, cazzo, questi qui smarchettano come i pazzi, noi non guadagniamo un centesimo a sta roba. Se ci dessero qualcosa, almeno possiamo finanziare i pedalini di Max, insomma. Esatto, esatto. Così non lo mandiamo sull'astrico. Ivan sta dicendo che fino a 30 giugno i plug-in di Universal Audio sono in offerta. Ecco, se vi manca qualcosa, se vi manca il 33609, scaricate la demo, che c'è sempre 14 giorni trial. provatelo, ma se non avete soldi da spendere, è meglio che non lo provate, perché vi assicuro che poi lo comprerete. E poi l'ho comprato, esatto. Sì. Va bene, dai, sentiamolo su un mix, come al solito. Prima senza e poi contro. Vai. Vai. La fine, la fine, la fine, la fine, la fine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quello di K Multimedia ti dice che il rullante ha preso una botta paurosa e anche l'Indel, ma in generale tutti belli. Stefano Ragni, UAD. Massimo Laudati, primo UAD, secondo e l'Indel terzo. Ivan Drums, UAD e l'Indel, perché ce li ha. Grazie a tutti. After Rouge dice che Arturia sembra che faccia fatica. Arturia anche a me mi è sembrato che faccia fatica. After Rouge a te Arturia non ti piace, quello che ho capito. Sei sempre tu che dici. No, però qui secondo me sull'acustica l'avevo notato meno, ma qui secondo me si sente, anche secondo me ha fatto un po' fatica. Nvidia Records dice Navi 2 e l'Indel. Arturia mi sembra un po' sgonfia. Ma a me piace UAD, perché lo uso sempre, mi sono abituato anche. È un suono che riconosco. È anche un suono figo. Suona proprio bene. Tutto bello preciso, dà la pigna giusta, i transienti sono lì, le basse sono ferme, ma rosse. Sai cos'è? Che è la stessa cosa che dico sempre quando faccio i mix, che bisogna mixarci dentro per capire bene. Poi questo qua noi lo usiamo tantissimo sul mix bass, quindi è già attivo dall'inizio. Se avessi attivo un altro di questi plugin, probabilmente prenderei delle scelte diverse durante il mix. Perché sentito così mi sembra che gli altri li sento un po' sui transienti fanno delle cose diverse. Mentre UAD lo riconosco meglio. Devo dire che l'acustica a me onestamente è piaciuto perché ho sentito che è rimasto tutto naturale, però tutto un po' più grosso. Non è aggressivo, ma è avvolgente, non so come dire. Non sta la pigna, però ingrossa tutto, che non è da questo compressore che io andrei a cercare quella cosa lì. E quindi mi è piaciuto molto anche l'acustica. Allora, Massimo Laudati dice che non trova sul sito di UAD il 33609. Non lo trovi perché adesso è dentro il bundle NIV Dynamics Collection, che comprende sia il 33609 che il 2254 che hanno appena fatto da poco, mi pare, l'anno scorso. Quindi li puoi comprare tutte e due dentro la Dynamics Collection. Allora, mi piacciono molto, comunque... Sì, questo compressore è uno dei più belli, Francesco, anche secondo noi. Tra tutti i compressori che abbiamo comparato. Questo compressore qua è bello, sia sulle tracce che sul mix bus. Dà subito corpo, cioè in tutte le sue varianti che abbiamo sentito, e anche quelli che non abbiamo sentito, perché poi ce n'è uno simile anche dentro Console One, la British Class A console. Class A, scusate. Console. La pronuncia è importante, poi ti massacrano. Eh, giusto, giusto, giusto. Poi c'è la Channel Strip di Lindel 80 Series, anche quello lì comprende un compressore tipo il 2254. Come abbiamo detto, quello di Waves. Quello di Waves, che non ha l'attacco a 100 millisecondi che abbiamo usato qua sul mix, per questo non l'ho inserito nella comparazione. ma, secondo me, è uno dei plugin più belli, dei compressori più belli di Waves, anche se è pochissimo usato. Ma è il 33609, ma è il 33609 o il 2254? Quello di Waves. Quello di Waves. È il 2254. Sì. Sì. Ah, ok, ho detto una cazzata. Come so? Sì. Per questo, stavo dicendo, non l'ho incluso, proprio perché non ha il rilascio a 100 millisecondi. Però è molto bello. Io, se non uso il 33609, uso quello di Waves sul mix bus. Provatelo, facendo proprio una gear reduction minima minima sul mix bus, e usandolo in dual mono, se potete, vedrete che, già solo con quello, date un carattere, e una grossezza al mix impressionanti. after use dice leave per il controllo, SSL per la colla, API per il punch. Esattamente. Sì, è bella. Sì, sì, sì. Potremmo fare una maglietta con questa cosa qua. Quando faremo le magliette? Quando faremo le magliette? Una maglietta potrebbe essere... Sì, quando... Lo aggiungiamo nella lista delle cose da fare. Sì, sì. Lo scrivo qua sulla mia macchina da scrivere invisibile. Però, sì, però devo dire che... Sì, azzeccato. Bravo, infatti ci stanno chiedendo, ma la maglietta? Eh, lo so. Dobbiamo vedere il reparto grafico, il nostro reparto grafico. Sì, esatto. È molto impegnato. Come dicevamo prima, come dicevamo prima, tra i contenuti, i corsi, e poi il nostro lavoro principale, che sarebbe Mr. Master. No, dai, la faremo la maglietta. Qua ce la sto chiedendo tutti, Max. La maglietta, diciamo che è in arrivo. Ma la maglietta, allora, chiariamo. Che serve per finanziare i pedalini di Max, vi ricordo. Sì, esatto, esatto. Così Max ci potrà far vedere un pedalino nuovo ogni diretta. Però dobbiamo fare un sondaggio. Dobbiamo fare un sondaggio. E facciamo un sondaggio. Perché ne facciamo una, eh, di maglietta. Quindi, voi volete che ci sia scritto Lo fai o ci sei? Plug in. Volete che ci sia scritto The Audio Nerd Show? O volete che ci sia scritto Rec & Mix? O volete che ci sia la faccia di Max? Eh, così. Col cerchio per tirare le freccelle. Lo fai o ci sei. Due voti per Lo fai o ci sei. Ok, ok. La faccia di Max. Anche la faccia di Max sta ricevendo voti. Eh, ha preso un voto ma non vale. Non vale perché poi mi volete picchiare. voi poi sbattete la maglietta per terra e la usate come bambola voodoo. Non vale. Dai, ragazzi, giuro Lo fai o ci sei. Frusteremo il reparto grafico. Ma la facciamo. Allora, non la facciamo prima dell'estate ma a settembre arriveremo con la sorpresa. La faccia di Max con la vignetta Lo fai o ci sei. Questa è una buona idea. No, dai, perché? Rec & Mix Lo fai o ci sei è figo ma ci deve essere Rec & Mix. Ah, ok, ok. Allora il reparto grafico studierà studierà un modo per farla Ah, no, l'unica cosa l'altro sondaggio già che siamo di sondaggio e poi ci salutiamo Bianca o nera? Nera Le magliette bianche sono quelle che uso per fare i lavori in casa, dai. Dai, le magliette bianche sono più moderne. Nera, vedi? Stefano dice nera. Jack Flash nera. Invidia Records nera. Francesco Verde Pultec. E faremo una speciale verde per te, Francesco. Nera, va bene. After Rush dice che la bianca è per i gelatai. C'è ragione. Va bene. Nera, nera. Anche Ivan è nera. Assolutamente. Prima diciamo metallari e poi va in giro con la maglietta gara. Ma sulla maglietta bianca, perché sono appena arrivato dalla gelateria. Quindi faremo le magliette per finanziare i pedalini e la pausa gelato di Max. Eh sì, sì. La pausa gelato. Ragazzi, gelato, gelatino. Tutti i pomeriggi verso le 5 gelatino, dai. Adesso che è estate. Va bene, ragazzi. direi che per questa sera ci siamo. Ci siamo. Ciao a tutti. Ci vediamo. Allora, mercoledì esce il video tutorial che abbiamo detto è del saturatore nuovo. della marca del Kelvin di Tone Projects. E giovedì il live mix in the end. Non perdetelo perché è sempre una bomba. E noi ci vediamo l'una e la fune. Ciao a tutti. Ciao, buona serata ragazzi. Ciao. Ciao.